Post di Tata, interessante. Ho adottato un cane con la leismania, perveniente da una zona endemica, e ho timori che possa prendere io la malattia e vedo sintomi strani e non so come muoverlo. Partiamo dal timore di prendere la leismoniosi. La leismania non si trasmette da cane infetto a essere umano, perché è necessario tutta una serie di meccanismi che è difficile da concretizzare, cioè il cane infetto deve essere punto da un pappataccio quando è in fase viremica, cioè quando ha il parassita nel sangue. Il pappataccio deve prelevare questo parassita, lo deve albergare almeno tre settimane, dopo il pappataccio deve altre tre settimane sempre lo stesso, deve rimordere il cane, rialbercare i parassiti per altre tre settimane e fare la stessa cosa tre volte, quindi per un totale minimo di nove settimane. Quindi immagina il caso, lo stesso pappataccio che deve prendersi una camera a casa tua, lo stesso, deve pungere il cane in fase viremica almeno tre volte nell'arco di nove settimane. Ti dico questo perché gli studi fatti sull'infettività dimostrano che il pappataccio è scarsamente effettivo anche se morde un cane in fase viremica o un topo in fase viremica o un animale serbatoio. Riesce ad avere l'infettività piena quando questo giochino lo compie tre volte di fila. Già diventa difficile perché devi pizzicare. Il momento che è in fase viremica, lui si nutre di sangue una sola volta ogni mese, diciamo che la statistica non gioca a nostro favore. Infatti se tu parli con qualunque operatore, compreso io, che mi occupo di cani, li recuperiamo con la malattia, non ho la leismania, me ne occupo da quasi 30 anni, non l'ho presa. Ma qualunque operatore sanitario che vive in zone endemiche e lavora al canile non ha preso la leismania. Invece si prende la leismania per esempio andando in particolari zone di mare, frequentando determinati posti dove gli animali c'entrano poco, ci sono però gli insetti vettori. Infatti uno degli errori più grandi che secondo me si sta facendo, andiamo in lato politica, è dare la responsabilità al cane del problema quando la vera responsabilità è il pappataceo. La lotta non andrebbe fatta contro il cane malato ma contro i pappataci. Ma come ti stai accorgendo? Ci sono stati in avigli qualche mese fa, ci sono più zanzare che persone, ormai c'è un abbandono del fatto di curare le zanzare, cioè di fare trattamenti per le zanzare. Parchi pieni, nessuno se ne sta occupando, allora lì diventa il rischio, non che hai il cane malato, lì marginale. Quindi stai sicuro e non ti ammari. La nostra amica riporta una serie di sintomi, tra cui il fatto che il paziente non trattiene l'urina. Lì devi fare un esame urina esteso, devi fare un'ocografia, devi fare gli esami del sangue. Perché? Perché il cane potrebbe non trattenere l'urina, ha un calcone in vescica, ha un polipo in vescica, produce più urina del normale, ha un uretere ectopico, cioè il tubicino che porta la pipì non sfoga in vescica ma sfoga fuori dalla vescica, tutte cause. Quindi bisogna che il clinico, il clinico cos'è? Il medico veterinario che si occupa di correlare sintomi con le malattie. Ma lì, un veterinario esperto in medicina interna te la risolve facile. Quindi questa è la prima parte. Seconda parte, mi parli che le feci di questo cane non sono perfette. Se viene da un canile vanno fatte più sverminazioni seriali, nonostante gli esami feci ti risultino negativi. Perché? Perché negli adulti fai gli esami feci 90% ti risulta negativo, nonostante i bieverni. E addirittura dai cani, i cani vengono spesso con la coccidiosi e con la giardia. E sono due parassiti che la coccidiosi, rimanga tra di noi, non sempre viene trovata. O non sempre si ha l'occhio per riuscire a determinarla, specialmente se c'è la fretta ambulatoriale di fare un esame feci estemporaneo. La giardia ha il brutto vizio di risultare negativa nel 50% dei casi dei cani positivi. Quindi quando escono da canile, addirittura noi nel nostro rifugio, quando entrano in rifugio, facciamo Panacur e Procus a prescindere. Addirittura, visto i problemi che abbiamo avuto con cani che poi sono risultati positivi dopo sei mesi, con tutti i problemi che noi abbiamo avuto di diarree, ormai richiediamo la sverminazione Panacur e Procus a tutti i pazienti del centro. Perché? Qual è il problema tecnico? Iniziamo il glucantime e il cane va in diarrea. Va in diarrea perché l'antimonio, il cambio dieta, gli stimolano i parassiti intestinali. Il cane fa diarrea, faccio gli esami feci e risultano negativi perché ci vogliono almeno tre mesi per avere la positività. E io cosa faccio? Do la responsabilità al glucantime della diarrea, tolgo il farmaco, provo altri farmaci, lui continua con la diarrea. Invece cos'è? Avevo i parassiti che non riuscivo a trovare. Quindi la sverminazione è il primo passo. Ma il mio consiglio è fai da un bravo internista, avrai il tuo veterinario di fiducia, sottoponigli il caso e lui ti aiuterà sicuramente. Un bacio! Grazie! 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 Grazie!